Abbiamo risultato una buona partita, un po' diversa dal solito, sono stati un po' più concreti, soprattutto per quanto riguarda il gioco, abbiamo un po' balato più al sodo oggi, quindi sono molto contento. La sensazione è buona, perché oggi abbiamo delle difficoltà, soprattutto in difesa, e quindi siamo molto contenti. La soddisfazione di un allenatore è grande quando si riescono a fare queste partite in piena emergenza, quindi la sensazione è ottima, non buona. Io dal punto di vista del gioco, secondo me, abbiamo un po', come dicevo prima, più balato al sodo, non ci siamo concentrati molto sulla costruzione da dietro, abbiamo cercato di fare un gioco un po' più veloce, quando andavamo dai terzini cercavamo di sviluppare subito, senza un grande possesso palla, perché sapevamo che loro erano bravi nelle ripartenze, e quindi abbiamo preparato quel tipo di partita. È andata bene, siamo contenti, però credo che l'atteggiamento dei ragazzi abbia fatto la differenza, non la sistemazione tattica, anche la difesa totalmente inedita. Credo che l'atteggiamento di chi ha giocato abbia fatto la differenza.